Serviva tutto quello che è successo fino a ieri? Infatti l'approccio non era quello lì. Noi abbiamo sempre detto con chiarezza quali erano le nostre posizioni. Avremmo preferito un governo politico, abbiamo lavorato affinché si costituisse un governo politico che naturalmente doveva però manifestare elementi di discontinuità rispetto al governo precedente proprio perché si era generata una crisi in virtù di una necessità di cambiamento che avevamo richiesto. Poi avevamo detto che se non dovesse esservi la possibilità per mancata intesa da parte dei partiti che avevano costituito il governo Conte II di mettere in piedi quel governo allora l'ipotesi di un governo istituzionale ci avrebbe visto assolutamente favorevoli. Noi abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere appieno l'iniziativa del Presidente Mattarella. Questo è quello che crediamo si debba fare in un particolare momento per il nostro Paese. Tutte le parole che lui ha espresso ieri sera le condividiamo dalla prima all'ultima. Dalla necessità di un governo, la necessità di affrontare l'emergenza sanitaria, l'emergenza economica. Speravamo che si potesse fare tutto questo con un governo politico che ci abbiamo provato fino all'ultimo. ci apprestiamo a sostenere questa nuova iniziativa, l'iniziativa di una persona autorevole, assolutamente autorevole. Allora aspetti, questo è l'antipasto, andiamo subito in punti.